Due capannoni dormitorio sono stati scoperti stamani in via Corte Vecchia durante un controllo interforse coordinato dalla Questure al quale hanno partecipato anche otto ispettori della sede IMSS. Gli immobili ospitavano due ditte di confezioni gestite da cittadini cinesi all'interno delle quali sono stati trovati 14 operai dei quali quattro clandestini. L'IMSS insieme alla direzione distrittuale del lavoro ha accertato come il 60% dei dipendenti fosse a nero e ora sta controllando anche le posizioni previdenziali dei lavoratori che risultano assicurati in modo da quantificare l'evasione contributiva. I due capannoni in precarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza antincendio presentavano numerosi abusi edilizi con l'allestimento in legno e cartongesso di 24 piccoli ambienti dormitorio. E' scattato così il sequestro penale preventivo ad opera della polizia municipale degli immobili che risultano essere di proprietà di italiani e dati in affitto ai titolari cinesi delle confezioni. E' stato disposto anche il sequestro amministrativo di 77 macchine professionali dal lavoro nonché la rimozione di otto bombole di gas per uso domestico utilizzate nelle cucine di fortuna senza alcuna accortezza di sicurezza. Presente al servizio è anche una troupe televisiva della Rai 3 Toscana che ha effettuato un reportage giornalistico sull'attività interforze.